Iniziamo alla grande, addirittura quattro buone notizie. Le metto tutte assieme all'inizio. È raro che ci siano buone notizie, soprattutto di questi tempi, ma vi voglio rendere partecipi di queste belle cose. Vi ricordate la settimana scorsa che ci avevo dato giù duro, veramente duro, per quelle biciclette legate al palo, all'angolo, via Chiavari, via Nazario Sauro, via Salietti. Ecco, pensate, mi hanno riferito, che la stessa notte, nella notte tra mercoledì e giovedì, quelle biciclette d'incanto sono sparite, scomparse. Due possibilità allora. Una, che i proprietari, vi ricordate, ero stato molto severo, direi quasi offensivo, io non so assolutamente chi siano queste persone, però chiudevano la strada, ecco, mi era successo di passare spingendo la carrozzina con il mio amico e non potevamo passare perché due biciclette legate al palo. Ecco, la notte stessa sparite. Allora, due possibilità, quando mi hanno detto sono sparite subito, dato che avevo fatto anche un riferimento ai ladri di biciclette, di lavagna e via dicendo, l'avranno portate via queste biciclette i legittimi proprietari, se le sono infilate in casa o qualche ladro sentendo che lì c'erano due biciclette disponibili visto il numero continuo di furti che avevano. Io mi auguro che siano stati i proprietari a metterle al riparo. Inoltre, vi dicevo, non solo due legate al palo, ma si sa, no, sulla spinta, altri avevano messo, non al palo, ma su loro stesse, legate a loro stesse, queste biciclette, ne avevano messe delle altre lungo la strada, in via Salietti. Ecco, anche queste scomparse totalmente, è escluso però una, perché c'è sempre l'eccezione che conferma la regola, e il bello è che chi è, adesso io avevo definito idioti e via dicendo, anche parole pesanti, imbecilli, ma diciamo solo imbecilli per non andare troppo giù dura, ecco questo signore, signora che sia, che continua bellamente a ostruire la via Salietti, il marciapiede di via Salietti, perché ostruisce? Perché lascia la bicicletta? Sì, ma una bicicletta riesce a bloccare una strada? Sì, nel caso di questa signora barra signore, perché? Perché il suindicato, cos'ha? Ha montato davanti alla sua bicicletta un cesto, sapete quelli grandi tipo da panettiere, ma non è quello da panettiere, è un cesto da lavoro, bello, con la farina, sudato, proletario, no, quello è un cesto di un certo livello, da liceo classico, non so come definirlo, è anche foderato con fine tessuto, ecco, adesso mi sembra il caso che questa persona risavisca, cioè non può bloccare una strada una persona che sbatte lì una bicicletta con davanti un cesto che è più largo della stessa strada, certo che le farà piacere portare dentro non so che cosa, tre gemelli ci può mettere dentro questo cesto da tanto che è grande, però ci vuole anche un po' di rispetto del prossimo, si può chiudere una strada perché uno deve portare tre gemelli a spasso dentro il cesto finemente lavorato. Quindi buona la notizia delle due biciclette legate al palo, buona che due biciclette sono state altre due rimosse, purtroppo il neo rimane il cesto, togliamo signora, signore, chiunque esso sia, un po' di buona volontà. Capisco che è difficile posteggiare uno strumento di questa grandezza, di questo ingombro, però ci vuole anche un po' di educazione, di rispetto del prossimo. C'è tanta gente che i gemelli anziché portarli dentro una cesta, li porta dentro una carrozzina e quindi di lì non passa, c'è chi ha delle malattie gravi, non può più camminare, gira su una sedia a rotella e di lì non può più camminare perché deve mettere la signora, il signore, la sua bici con il cesto. A tre piazze!